E' un nuovo speciale dedicato alle elezioni amministrative. Elezioni amministrative che si terranno a primavera, a Vibo Valencia probabilmente il 10, forse il 15. Qualcuno ipotizza addirittura a fine del mese di maggio. Oggi ospiti dei nostri studi il candidato del centro-sinistra, vincitore delle primarie che si sono svolte lo scorso mese, Antonio Loschiavo. Buonasera Loschiavo, giovanissimo notaio di Vibo Valencia. L'ex sindaco di Vibo Valencia è candidato a sindaco di questa città, Elio Costa, alla testa di una coalizione, di un progetto civico che sta, d'altro canto, anche attirando l'attenzione e il sostegno di forze politiche, possiamo dirlo di centrodestra, dottore Costa. Poi ne parleremo. Ne parleremo più avanti. E poi l'ingegnere D'Agostino che, diciamo, è un po', mi lasci passare il termine, ingegnere, l'outsider di questa competizione, che è espressione dei movimenti, di una forza civica nuova che è Cambiamo Vibo, che è sostenuta da una forza politica che è Rifondazione Comunista. Un progetto che andremo a scoprire più avanti non sarà una tribuna elettorale classica. Non è questa, non siamo in campagna elettorale, non vogliamo quasi neppure parlare di programmi, perché in fondo i problemi di Vibo Valencia che si appresta ad iniziare questa campagna elettorale, a vivere questa campagna elettorale, sono ben noti. Vogliamo ricostruire un po' il percorso che ci porta all'oggi, ad una quotidianità sofferenze, sofferente, ad uno slogan che è quello che è stato coniato dal nostro gruppo, Vibo non esiste al di là del mare e di un presente triste. Uno slogan, questo, che vuole essere un po' un pugno allo stomaco delle coscienze, affinché si prenda effettivamente coscienza di qual è la situazione reale e attuale, e attuale affinché possa cambiare. E in questo percorso, in questo percorso a ritroso nel tempo fino all'attualità, un'attualità che vogliamo scandagliare fino in fondo, mi accompagnerà, come al solito, il nostro Tonino Fortuna, che è il nostro notista politico esperto di cose politiche regionali e locali. Noi parleremo questo pomeriggio delle elezioni future che attendono Vibo Valencia, ma è un percorso questo che ci accompagnerà anche in altri comuni la settimana prossima. conteremo di emulare quello che già abbiamo fatto per Vibo Valencia, quello che stiamo facendo anche oggi, sulla mezzaterme, dove intanto ci saranno a breve le primarie, ci saranno diversi candidati che si contenderanno la guida della coalizione di centrosinistra, e quindi poi il riassestamento dell'intera geografia politica lametina in vista anche qui delle elezioni amministrative. Ma iniziamo il nostro talk, il nostro confronto, il nostro dibattito, partendo da una data, maggio 2002. La data è il mese che decretò esattamente 13 anni fa l'elezione di Elio Costa alla carica di sindaco di Vibo Valencia. Elio Costa che poi sarebbe rimasto alla guida di Palazzo Luigi Razza per circa due anni e mezzo. Poi l'avvenuta del Presidente Ciampi e il giorno dopo il colpo di scena, con le dimissioni da parte di diversi consiglieri di maggioranza che fecero cadere un'amministrazione che stava iniziando a mettere in mano a quello che poteva essere la chiave di volta per il futuro, i finanziamenti di Assicittà, i grandi progetti, i cantieri. Era un'epoca particolare. Antonio Lo Schiavo, che oggi è il candidato che si pone come alternativa al passato, quindi il candidato del cambiamento, all'epoca era uno studente universitario e non sapeva che a distanza di qualche anno ancora sarebbe diventato un notaio. L'ingegnere D'Agostino invece era una figura che era già molto attiva nel sociale, però ancora non sarebbe nata quella forza, il forum delle associazioni, che poi ha partorito, cambiamo Vibo, che è il movimento alla cui testa oggi l'ingegnere D'Agostino si candida. Dottore Costa, che ricordi ha di quel maggio del 2002? È un ricordo abbastanza intenso e nello stesso tempo anche molto piacevole, perché in quell'epoca, quando io ero ancora magistrato, si determinò anche un raffronto con i vari cittadini, una vicinanza ai cittadini che francamente non mi aspettavo che potesse essere di quelle dimensioni, che potesse avvenire in quei termini. Io conoscevo già la città e l'amavo molto la città, perché mi ero cresciuto e ci stanno anche dei luoghi che persino sono ancora da me frequentati, perché io parto profondamente dalla convinzione che attraverso il rapporto con i luoghi si determina anche la identità delle persone. E allora in quel 2002 ebbi questa netta sensazione di vivere assieme ai miei cittadini quell'esperienza. Infatti, con l'elezione al primo turno, incominciai a viverla davvero, quell'esperienza, intensamente, andando sulle strade persino la mattina, la mattina alle 6 e alle 6 e mezza, circolando per la città in maniera tale che potessi rendermi conto delle effettive esigenze dei cittadini e degli effettivi problemi della città. E quindi fu un'esperienza particolarmente positiva in cui si determinò questo raccordo intenso con la mia città e con i miei cittadini. Allora Elio Costa vinse su Franco San Marco al primo turno, Franco San Marco candidato a sindaco del centrosinistra, molto più staccato, l'outsider di quella competizione che fu Michele Furci, anche in quel caso alla testa del Movimento dei Paesi e dei Quartieri, sostenuto da Rifondazione Comunista. Poi Tonino, cosa avvenne? Perché quell'esperienza così traumatica fu interrotta, quell'esperienza così, diciamo che era nata sotto i migliori auspici, si interruppe in maniera così traumatica nel gennaio del 2005, se non malerrato. 15 gennaio del 2005. Esatto. Intanto buon poveriggio a tutti. Beh, insomma, avvenne che si dimisero in massa i consiglieri della maggioranza. E della minoranza. E della minoranza, sì. Ovviamente non si lasciarono sfuggire l'occasione. Ma il fatto determinante sul piano politico furono ovviamente le dimissioni dei consiglieri di maggioranza e il dottore Costa non ebbe più i numeri per portare avanti, superata la metà, di poco la metà, quella esperienza amministrativa. Era il gennaio del 2005, la legislatura si sarebbe naturalmente conclusa nel maggio del 2007. Quindi esattamente due anni e mezzo o più tardi. Si verificarono probabilmente dei dissidi. Antonio Schiavo era studente universitario, io pure, perché più o meno, insomma. Sì, questo è. Per cui scrissero le cronache, insomma, e si disse che il dottore Costa non volle cedere ai ricatti, io cito testualmente, di quella maggioranza. È strano che però poi a distanza di cinque anni, nel 2010, gli stessi partiti del centrodestra che nel frattempo avevano cambiato nome, avrebbero riproposto al dottore Costa di ricandidarsi a sindaco. In quel caso sarebbe stato lui a declinare l'invito per ragioni ovviamente sue personali. A dieci anni la sfida si ripropone, la partita si annuncia interessante perché questa volta il progetto che il magistrato Elio Costa è presente è un progetto civico, ma aperto alle forze politiche che intendano sposarlo. Io voglio citarlo testualmente perché lo disse per la prima volta a me in una intervista rilasciata nella scorsa estate, se non ricordo male era il mese di luglio. Quindi un programma aperto è che i partiti possono, qualora lo desiderino, condividere. A condividerlo non saranno certamente, bene, chiarirlo subito, i partiti del centrosinistra. Peraltro le intenzioni del PD furono chiare sin da subito, che il giorno dopo venne fuori un documento della segreteria del Partito Democratico in cui si chiariva che chiunque avesse voluto essere sponsorizzato dal PD avrebbe dovuto sottoporsi alle primarie, che si sono concluse due settimane e mezzo addietro. Il dottore Costa chiarì immediatamente che non avrebbe mai partecipato alle primarie, le strade si divisero subito, ciascuno prese la propria strada. Automaticamente chi condivide il progetto di Elio Costa? Probabilmente alcuni partiti che nell'alveo politico consolidato nel corso della Seconda Repubblica rientrano nel cosiddetto centrodestra. Ammesso che ad esempio oggi si può parlare di Udc come forza di centrodestra, io faccio grande fatica ad immaginare che l'Udc e l'NCD oggi possano essere considerati al di là del nome forza di centrodestra, visto che stanno al governo con Matteo Renzi. Il resto penso che sia il diretto interessato a dovercelo. Il resto è storia attuale, cosa avvenne ancora dopo? Avvenne che il centrosinistra, ripresi in mano le redini della città, lo fece ricandidando il candidato sconfitto alle elezioni del 2002, cioè Franco San Marco. Franco San Marco che vinse in maniera dilagante superando anche la soglia del 60%, mentre ci si ritrovò con un centrodestra in macerie e con un elettorato che fece pagare in maniera evidente lo scotto. Pagò un prezzo altissimo quel centrodestra, lo pagò in termini di mancanza di progettualità ed anche di uomini in quella fase, inutile nascondere. Accadde quindi che in quel momento si avviò l'esperienza politica del centrosinistra con Franco San Marco alla guida e si iniziarono a verificare quelli che poi i dati fatti riferiti alla storia del dissesto finanziario ci riportano all'attualità. Cioè quel buco, se così possiamo definirlo anche se in maniera un po' forse a tecnica, forse impropria, che si cominciò a procurare quel disavanzo che poi avrebbe portato alla declaratoria di dissesto sotto la successiva amministrazione comunale, quella ad Agostino, che oggi termina il suo percorso amministrativo. E in questo contesto nacque quella forza movimentista, se possiamo così definirla, ingegnere d'Agostino, che vide protagoniste le associazioni, che vide protagoniste soprattutto lei che è diventato il portavoce del forum delle associazioni e che è diventato poi il leader e l'espressione di questa forza civica, cambiamo vivo, che si pone in discontinuità con il passato. perché forza civica, la sua forza civica, quella di Costa? Ecco, non avete trovato una sintesi? Soltanto questione, come dire, di evidente, insomma, la sosterra di fondazione comunista. Col dottor Costa se non troviamo la sintesi. Ma guardi, probabilmente potevamo anche provarci, il discorso è questo, che noi partivamo proprio da quella storia che voi avete in qualche modo rievocato, no? E quindi che fu poi alla base di, diciamo, come la possiamo chiamare della defenestrazione o no? Di quella vicenda poco simpatica, no? Che fece andare via il dottor Costa. Proprio quello poteva essere un sintomo chiaro che bisognava invertire la tendenza. Cioè noi fin allora ci muovevamo nel campo, nella cosiddetta società civile, ma diciamo del lavoro sul campo in mezzo alle aggregazioni civiche. Era già assorta un'associazione che si chiamava Vito Capialbi, poi sorse, diciamo, l'associazione Città Aperta. Alla base di questa azione che facevamo c'era la convinzione che la politica, a vivo come del resto in campo nazionale, era diventata sfittica e che sul piano amministrativo c'era bisogno di un cambio di gestione, facendo, come dire, riannovando dei fili che si erano spezzati con la cittadinanza. Questo perché? Perché praticamente aumentava di pari passo la gestione privatistica e spesso personalistica dei rappresentanti politici e amministrativi e questo non poteva che nuocere, diciamo, in generale alla città. D'altronde, in tanti altri contesti, sono evidenti i risultati che hanno ottenuto le aggregazioni civiche, sia dall'associazionismo, sia dal volontariato, che danno dei grossissimi contributi alla gestione, all'avanzamento culturale e sociale. Ora noi credemmo in quale amministrazione San Marco, tant'è vero che partecipammo anche diciamo nella fase della campagna elettorale con dei contributi e anche al programma, perché ritenevamo che quella strada fosse perseguibile e proprio per invertire la rotta rispetto a quello che è successo con l'amministrazione del dottor Costa. Purtroppo fu una delusione e le dico subito, narro rapidamente un fatto che è emblematico diciamo di quello dell'aspettativa e della successiva delusione. Si stavano attraverso i fondi POR delineando dei finanziamenti che potevano portare a degli interventi importanti nel centro storico. Uno di questi riguardava il quartiere Carmine. Noi avevamo fatto un protocollo d'intesa, sempre con quella finalità di cui ho parlato prima, di questo avvicinamento dei cittadini all'amministrazione, sicuro che la collaborazione non poteva che essere importante e produttiva. In questo protocollo dicevo avevamo delineato un'attività di collaborazione che tendeva a sottoporre ai cittadini, come avviene in tanti altri contesti del Paese, i progetti prima che fossero eseguiti, in modo che ci fosse una condivisione e una partecipazione attiva. E uno di questi riguardava questo progetto del quartiere Carmine. Come andò a finire, ingegnere? Prego? Come andò a finire? Come andò a finire? Andò a finire male, nel senso che fatto il protocollo, firmato il protocollo, poi l'esecuzione dei lavori praticamente dimostrò che si batteva un'altra strada, non si controllavano quello che si faceva. Se non vado errato, questa fu una vicenda che poi le costò anche un'intimidazione. Un'intimidazione molto grave, ma perché? Perché effettivamente fu quasi un attestato della bontà e dell'incidenza, dell'incisività che davamo all'azione, che era un'azione popolare del quartiere. E successivamente avvenne questo. Di brutto che nessuno dell'amministrazione in carica parlò. Ci fu un silenzio assordante. E viceversa noi andammo avanti perché la gente aveva preso fiducia, aveva capito che era possibile fare questa azione e da lì poi si è aperta quella prospettiva che portò successivamente a Città Aperta e al forum dell'associazione. E oggi è Cambiamo Vibbo. E oggi è Cambiamo Vibbo. E oggi è Cambiamo Vibbo, progetto di cambiamento evidente e il cambiamento è la parola chiave di Antonio Lo Schiavo che si pone come alternativa, si pone come figura che decide di spazzar via un passato che riguarda anche il centrosinistra. Centrosinistra che evidentemente ha anche molte cose da farsi perdonare. E chiedo conforto a Tonino Fortuna. Quali sono le responsabilità prima ovviamente di arrivare allo schiavo e alla posizione? A cosa rappresenta oggi lo schiavo nel contesto che ci porta, ci proietta alle amministrazioni, alle consultazioni amministrative di primavera? Ecco, quali colpi ha da farsi perdonare il centrosinistra? Il centrosinistra non certamente il candidato che ovviamente non ha partecipato attivamente diciamo alle note vicende politiche. Beh, intanto io tengo che lui sia il vincitore delle primarie per cui tutti coloro i quali sono sottoposti al vincolo, tra virgolette, delle primarie dovrebbero appoggiare la corsa di Antonio Lo Schiavo. E siccome alle primarie hanno partecipato 5.238 persone a Vibo, io penso che se questa base venisse confermata, se davvero quelli erano tutti elettori del centrosinistra, insomma lui parte da una base importante. A questo dobbiamo in qualche modo poi aggiungere anche la congiuntura positiva perché in questo momento il centrosinistra governa la regione, è inutile nasconderlo come la governava Scopelliti 5 anni addietro, e ha una struttura un po' più radicata sul territorio. Io penso che sarà una bella sfida perché ovviamente i contendenti si prestano e sarà anche un momento per riflettere e per valutare se davvero Vibo intende in qualche modo sposare due progetti che secondo me non sono uguali. Molto ci è detto e si è scritto in questi giorni, anche sui social network, i partiti alla fine propongono sempre le stesse cose. Io ho letto attentamente il programma del dottor Costa, mi sono fatto un'idea anche delle cose che durante la campagna dottore per le primarie ha detto Antonio Lo Schiavo, mi sto documentando anche sul programma dell'ingegnere D'Agostino e penso che siano diversi i programmi, non sono identici, partono da prospettive differenti, anche se poi i problemi della città li conosciamo. Antonio Lo Schiavo ha vinto le primarie, le ha vinte secondo me senza promettere la luna, con un programma assolutamente basato sui problemi reali, sulle emergenze e dovrà dare delle risposte a partire proprio da quelle difficoltà che la città sta vivendo e che lui ha sollevato nella campagna elettorale. Pragmatismo e disillusione, possiamo dire che sono queste le direttrici di Antonio Lo Schiavo? Io intanto nel 2002 non voglio ritornare al passato, anzi penso che è importante capire alcuni passaggi per gestire il futuro, intanto nel 2002 purtroppo, e me non ero studente universitario, ho detto male prima, nel 2002 facevo l'assistente alla cattura del professore Alpe in diritto privato presso l'Università della Sapienza, non ero tanto, come dire, tanto giovane da questo punto di vista. Nel 2002 e poi le esperienze che sono proseguite, a mio avviso noi oggi più che di questo noi dovremmo ragionare su come noi costruiamo una nuova città e su questo noi abbiamo lanciato un segnale di cambiamento, segnale di cambiamento che è partito già dai metodi. Me lo faccio dire proprio oggi che ci sono delle polemiche, le primarie sono state un grande strumento di partecipazione democratica e io so quello che dico, nel senso che per la prima volta a Vibo in maniera seria più di 5 mila cittadini hanno scelto il proprio candidato a sindaco di una coalizione ed è un segnale di grandissima partecipazione. Io sono stato legittimato da oltre 2500 elettori che hanno scelto la mia proposta politica. Io faccio parte e sono il candidato di una coalizione di centrosinistra e non c'è nulla di male a dire questo. Oggi noi dobbiamo dare un elemento di chiarezza ai cittadini. Il dottore Costa è stato sindaco di questa città ed è stato sindaco di centrodestra, di una coalizione di centrodestra. Ha governato questa città, non un giorno l'ha governata forse due anni e mezzo, non so bene dal 2002 al 2005, comunque ha governato questa città e a un certo punto per una serie di ragioni che io onestamente non conosco vi è stata una crisi istituzionale dell'amministrazione. Ora io non riguardo al passato perché le ho detto prima, oggi noi guardiamo al futuro. Però non posso non registrare come oggi il dottore Costa si ripresenta la competizione elettorale appoggiato dagli stessi partiti politici che l'hanno sostenuto nel 2002. Perché ho letto pochi minuti fa una dichiarazione politica di Forza Italia che esprime il sostegno al candidato dottore Costa. Non c'è nulla di male, non è da dare grandissima importanza alla questione civica o politica, io la sminuisco, ma non trovo la ragione per rimarcare una discontinuità che nei fatti non c'è. Nel momento in cui si candidano gli stessi consiglieri comunali che hanno governato la precedente amministrazione, nel momento in cui ci sono i partiti politici, con o senza simbolo, inevitabilmente noi abbiamo una competizione in cui c'è il centro-sinistra, rappresentato da me, c'è a mio avviso il centro-destra perché Forza Italia, a meno che non si voglia chiamare Forza Civica Forza Italia, che sostiene un altro progetto e c'è un altro progetto ancora di Cambiamo Bibbo, sostenuto anche da alcune forze politiche come Rifondazione Comunista. Il quadro è chiaro, non c'è nulla da meravigliarsi, i partiti politici, perché demonizzarli? Io non vivo di politica, io faccio il notaio, ho 37 anni, faccio tutt'altro nella vita, io non sono un politico di professione, eppure non ho nulla, e nonostante la mia libertà professionale, non ho nulla di male da dire che il motore della nostra coalizione è un partito politico che si chiama Partito Democratico, cosa c'è di male in questo? Non c'è di male nulla, è un partito che governa l'Italia, che governa la regione, con cui noi creeremo una sintonia e una sinergia, non c'è nulla di male, quindi insistere sulla appartenenza partitica della mia persona e il civismo in altre coalizioni mi sembra una strada tortuosa, a meno che noi non vogliamo coniare un nuovo slogan, discontinuità nella continuità. Può essere uno slogan che si può dire... Il dottore Costa sulla prima parte del suo discorso annuiva, sulla seconda parte mi sembrava insomma abbastanza perplesso. Anche perché per la verità non mi è mai capitato di parlare del notaio, né pubblicamente né anche con altre persone all'interno della mia coalizione, io non ho mai parlato del notaio dal punto di vista politico né da altri punti di vista. Quindi queste sue affermazioni francamente non so da dove traggono origine. Io ho semplicemente ribadito in tutte le mie affermazioni che mi candidavo con delle liste civiche. Ho anche ribadito l'importanza dei partiti, ma ho anche fatto l'importanza dei partiti nella storia della democrazia italiana, ma ho anche fatto presente in ogni caso che si è avuto contezza qui a Vibo Valencia anche attraverso diverse situazioni che molti hanno vissuto di politica, anziché per la politica. Ecco perché io volevo prendere le distanze da determinate situazioni che si erano verificate. Aggiungo che per me nel 2005 sarebbe stato molto facile impedire che tutto quello che è avvenuto avvenisse. Perché? Perché bastava semplicemente che io presentassi le dimissioni che duravano semplicemente 15 giorni e subito dopo ci sarebbero state pressioni per rientrare. No, io volevo tagliare definitivamente. Cosa che aveva fatto prima D'Agostino, padre, se non vado errato. No, no, no. Alfredo D'Agostino? No, no, no. Aveva fatto, non aveva fatto nessuno per la verità. D'Agostino non si era dimesso, aveva portato in fondo la... No, e poi aveva ritirato le dimissioni. Ah, poi aveva ritirato le dimissioni. Ci fu la crisi dovuta al deferestramento dell'assessore Basile. Basile aveva presentato le dimissioni e poi era ritornate. Ecco, io non volevo ripetere quella esperienza. Non la volevo ripetere anche perché volevo dare un taglio definitivo di fronte a determinate situazioni che non condividevo. E d'altro canto, anche nell'esercizio di quella attività, di quel breve periodo di attività sindacale, io ho cercato di far capire quanto fosse importante, come dire, l'amore per la città, quanto fosse importante, l'autonomia e la indipendenza nel perseguire determinate finalità che non sempre coincidevano, anzi quasi mai coincidevano con le finalità non dei partiti, delle persone che erano a capo dei partiti. E' una cosa molto diversa. Dottore, ma perché cadde quell'amministrazione? Perché rimane un giallo nella storia della nostra gente? No, non è un giallo, l'ho chiarito diverse volte. Quando siamo in prossimità di una serie di finanziamenti che Vibo ha ottenuto in quel periodo, alcuni si conoscono, altri purtroppo neanche si conoscono e l'amministrazione di sinistra non le ha neanche prese in considerazione. Si conosce che era stato elargito un finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture per 21 milioni di euro per la costruzione della tangenziale in tre tranche, le ultime tranche sono avvenute successivamente, la prima è avvenuta durante la fase nel novembre del 2004, la prima tranche. Non si conosce e non ha fatto niente l'amministrazione di sinistra per conoscerla, che si era fatta anche una convenzione con l'ANAS, perché raddoppiasse il finanziamento per la costruzione di questa tangenziale che praticamente collegava due tratti della 18. Era chiaro che intanto un tale importo di tanta importanza poteva essere speso in quanto si fosse fatto uso dei bandi europei e non di altro, in quanto per la progettazione della strada. C'è già questa situazione che costituisce la premessa, parlo di bando di gara europeo, che costituisce la premessa perché possano sorgere o potessero sorgere all'epoca dei dissensi con determinate persone. Ma c'è anche un'ulteriore situazione. L'ulteriore situazione è il tentativo di impormi a tutti i costi un assessore che non doveva essere in quel momento nominato assessore. E nel momento in cui io chiedo di spiegarmi le ragioni per cui doveva essere nominato quell'assessore, mi si risponde che era una questione politica e non una questione politica. Al che io ribadisco che a me di quella politica non interessava niente, in quanto a me interessava soltanto la città e quindi il bene della città. E siccome quella politica non andava a favorire il bene della città, mi si rispose, mi si controbatte con una risposta addirittura non particolarmente piacevola da ascoltare, ma che io per la verità ho anche registrato appena ieri. Quindi da questo si capiva che la situazione che si era ormai determinata era una situazione insostenibile che io non accettavo. Tant'è vero che il giorno in cui sono avvenute le dimissioni, le dimissioni non soltanto tranne con esclusione di alcuni della maggioranza, intendo dire forse l'Italia non si dimise, né si dimise una parte dell'Udc che faceva capo, all'epoca era Cicci di forse, non so, Stilitani e qualche altro, non si sono dimessi. Sono dimessi invece quelli del PD, quelli del partito, scusi solo per completare il pensiero. Sull'assa Ranieri Bevilacqua si consumò questo evento. Come? Sull'assa Ranieri Bevilacqua si consumò questo evento. Sull'assa Ranieri Bevilacqua è stata seguita poi dal PD, all'epoca non so se si chiamasse PD o meno, è stata seguita dal PD, cioè dal PDS. E allora io sapevo perfettamente quel giorno che ci sarebbero state le dimissioni e allora andai, proprio per togliere loro il disagio di incontrarmi lì al Comune, andai al Palazzetto dello Sporto perché dovevo fare il collaudo del Palazzetto dello Sporto, doveva essere eseguito il collaudo in maniera tale da consentire che si discutesse la Serie A a Vibbo Valencia e non a Catanzaro. C'era la disputa per la calza e ricorda. E quindi lasciai fare senza assolutamente intervenire né senza pensare a soluzioni alternative. Ingegnere D'Agostino ha preso un sacco di appunti, vedevo dopo l'intervento di Lo Schiavo che ha messo parecchio Pepe a questa discussione, poi l'intervento del dottore Costa che in parte annuiva, in parte restava perplesso e ha chiedito alcuni aspetti, lei invece appuntava. Cosa? Guardi, allora il primo punto, le primarie sono state un grande sintomo di dimostrazione democratica. ho qualche dubbio su questo. Intanto così come sono fatte le primarie, ci sono stati un sacco di commenti, di opinionisti eccetera, non garantiscono granché sul piano della reale partecipazione democratica e della scelta dei candidati. Tanto per dire in America ha dei 150 anni che si fanno le primarie, ma sono tutt'altra cosa. E soprattutto c'è alla base una legge nazionale che secondo me, e non solo, secondo me è necessaria anche qui in Italia per evitare certe degenerazioni che abbiamo visto anche a vivo. lo schiavo non può negare, perché è diventata Vox Populi, che alle primarie sono andate a votare persone letteralmente prese da casa e portate lì. Quindi non era una libera scelta, era quasi una coercizione. Si è detto anche che molta parte... Sono stati tantissimi comunque, si è ammesso che sia stato il 20, il 30% di deportati... No, però guardi, quello è un sintomo comunque... È una mia riflessione, non voglio... Voglio dire che è una degenerazione, adesso io non faccio la conta. È anche vero che hanno partecipato molte persone di destra all'interno di giochi che si erano fatte. È la realtà, guardi, se poi vogliamo negarla... Ma lo dico perché bisogna cambiare metodo e i primi... Qualcuno ha dichiarato pubblicamente, io l'avversario me lo scelgo. Esatto, esatto. Ecco, io non so, su questo non sono d'accordo, perché è chiaro che questo lascia lo spazio a quei trasversalismi di cui soffre e ha sofferto moltissimo la città di Vipo. Il discorso dell'appoggio, no? Delle liste. Ecco, io devo dire, avete detto ripetutamente che la lista Cambiamo Vipo è sostenuta da Rifondazione Comunista. Io rivendico una differenza rispetto sia al candidato, lo schiavo, che giustamente non lo rinnega, dice io sono appoggiato alla lista, non criminalizzo la politica, io poi vi do qualcosa anche riguardo ai partiti e sia per quanto riguarda il dottor Costa che attualmente tra l'altro mi pare che sia fluida la situazione, cioè non è stata ancora definita perché si parla di simboli, di simboli, non simboli, staremo a vedere. Però è anche vero che Forza Italia ha assunto una posizione ufficiale e poi vedremo anche il discorso della composizione delle liste. Io per parte nostra posso garantire questo, Rifondazione non presenta una lista col proprio simbolo, ci sono persone che hanno militato in Rifondazione che convergeranno nella nostra lista civica come cittadini e se permettete non è una differenza da poco, quindi altrimenti cadiamo proprio in schemi che non sono corretti. Quindi semplificherete la scheda elettorale con un solo simbolo? Con un solo simbolo, va bene, che abbiamo in preparazione e che è appunto espressione del comitato Cambiamo Vibbo. E detto questo, io devo dire anche questo, nessuno vuole criminalizzare i partiti, però dobbiamo anche riflettere sul fatto e sul dato storico che i partiti sono degenerati, che i partiti hanno creato un fossato enorme e continuano a crearlo con la parte attiva della società, con i cittadini, altrimenti come si spiega l'astenzionismo sempre più crescente? Non si spiegherebbe altrimenti. Come si spiega in questo momento il deficit di democrazia che gli stessi rappresentanti apicali del Partito Democratico denunciano ogni giorno? Vogliamo negare questo? Non è normale dialettica questa qui, è altro. E allora voglio dire, noi abbiamo una complicazione e una degenerazione in più. I nostri partiti locali sono appendici delle segreterie nazionali. I nostri problemi non sono stati mai nell'agenda dei partiti nazionali e ditemi se sbaglio. La questione meridionale è uscita completamente. Ci sono responsabilità storiche enorme. Noi parliamo di ascarismo nei nostri rappresentanti nella classe dirigente regionale, che spiega anche il perché di questa deriva che continua senza fine. E i rapporti svimez dicono abbastanza, andatevi a leggere, e sono veramente raccapriccianti, sono dati devastanti. In tutto questo, voglio dire, i partiti nazionali, il meridione, lo vedono lontanemi le miglia. Cioè, ditemi se c'è una legge che è stata imposta o è stata caldeggiata dai nostri rappresentanti regioni, di tutti i partiti, va bene? Che ci ha fatto quantomeno elevare uno dei parametri. Io so soltanto che il 47% dei fondi comunitari se ne sono tornati in Europa e che addirittura noi diamo di più di quello che riceviamo dall'Europa. Queste sono fatti. Se poi andiamo a livello locale, no? Abbiamo parlato all'amministrazione San Marco, vogliamo parlare di quella ad Agostino? Ci arriveremo. Sì, no, prego. Con l'analisi di Torino Fortuna andiamo in pausa per qualche minuto. Solo per dire alcuni concetti. Intanto le primarie ovviamente non sono un sistema perfetto. E ovviamente si prestano in assenza di regole ben precise, tipo albo degli elettori, a delle forme inevitabili e delle forme inevitabili di partecipazione anche di soggetti che magari non condividono il nostro percorso. Voi avete fatto riferimento a voti che provenivano da altre forze politiche. Ma detto questo, e quindi riconosciuto un limite che non è locale, ma è un sistema, una revisione nazionale del sistema delle primarie. Io insisto a dire che sono state nella città di Vibbo l'unico sistema che ha consentito di fare scegliere il candidato sindaco direttamente dal base dei cittadini. Altrimenti noi avevamo un accordo politico, molto probabilmente, preso nel chiuso di una segreteria di partito tra pochi soggetti e non condiviso dall'opinione pubblica. Quindi io ritorno a riaffermare il ruolo delle primarie. E quando lei mi dice che sono stati portati di forza, devo dire che molto probabilmente lei non è a conoscenza del fenomeno che si è avuto due domeniche fa, perché noi parliamo di migliaia di cittadini, di migliaia di cittadini. E quindi si sono innescati una serie di fenomeni diversi tra di loro, tra cui un voto libero di opinione che è stato netto nello scegliere un tipo di percorso. E quindi intanto non posso non rimarcare una mia differenza. C'è un certo tipo di, come dire, non voglio dire di sinistra perché sennò poi entriamo, di impostazione politica che tende a rannicchiarsi, a chiudersi, a non contaminarsi. Ma quel tipo di impostazione non risolve i problemi. Essere una coalizione di governo che vuole cambiare una città significa essere una coalizione popolare, una coalizione ampia, che si apre alla società, non si racchiude nell'appropriatore d'avorio. E questa è una differenza importante tra il mio percorso politico e quello di alcune associazioni, di alcuni movimenti, che hanno voluto precludere e hanno precluso sin dall'inizio un tipo di confronto che poteva essere proficuo sul piano dei contenuti. Noi siamo una forza di governo e per essere forza di governo inevitabilmente apriamo gli orizzonti. Quindi non difendo io i partiti, perché conosco le degenerazioni dei partiti e sono d'accordo su un discorso di principio che lei mi fa, e cioè che sono venuti meno i ruoli dei partiti politici come luogo di formazione e di selezione di classe dirigente e di elaborazione di proposta politica. Non devo difendere io i partiti politici perché in questo momento so anche il giudizio di disfavore politico. Diventa quasi controproducente. Controproducente, quindi naturalmente non faccio in questo momento la mia battaglia come una battaglia partitica, anche perché la mia coalizione, devo dire chiaramente, oltre a essere formata da partiti politici, è formata da una grande area civica, questo sì, perché noi metteremo in campo almeno tre liste civiche e quindi noi ci apriremo, ma aprirsi al mondo civico e alla società civile non significa non richiedere l'aiuto di forze di governo, di forze di governo che devono garantire un sostegno a questa città. Cioè noi dobbiamo inserire questa città in un percorso politico nazionale e regionale perché come avete ben detto, se noi non riusciamo a avere capacità di attrazione di fondi comunitari, nazionali, noi non riusciamo a reggere la sfida del cambiamento. Quindi comunque la si giri, non ci può essere alcun processo di cambiamento se non si parte anche dal ruolo dei partiti politici. Grazie allo schiavo. Tonino, vogliamo condensare in poche battute quello che è emerso fino a questo momento e soprattutto proiettarci al futuro, capire quello che ci attende. Sì, io vorrei cogliere al volo anche l'analisi che è stata fatta rispetto alla formazione delle liste perché abbiamo affrontato diverse questioni in questa prima parte di programma. È interessante capire anche cosa bolle in pentola dentro le due principali coalizioni perché l'ingegnere D'Agostino ha già chiarito che sarà una sola lista con un solo simbolo. E allora partirei dal dottor Costa così proseguiamo il giro. Il suo è un progetto civico, su questo non ci piove, lo ha affermato, lo ha ribadito, eccetera, è un progetto però aperto ai partiti. Ci sono stati alcuni partiti che hanno manifestato interesse nel sostenere il suo progetto. Tra questi il principale partito, la forza più significativa sul piano dei numeri, almeno fino alle ultime elezioni, del centrodestra e cioè Forza Italia. Dal momento che il suo è un progetto in discontinuità, lo ha detto e ribadito rispetto agli ultimi dieci anni di amministrazione, credo di aver capito questo. Come la mettiamo con gli assessori che da qualche ora abbiamo scoperto sono di Forza Italia e fanno parte dell'aggiunta uscente, ma che uno dei leader di Forza Italia sul piano provinciale, cioè il consigliere regionale Salerno, vuole assolutamente ricandidare? Perché questo rischia di diventare il tema di questa prima parte di campagna elettorale. Io vorrei però riprendere un attimino il discorso che è stato trattato da entrambi i candidati, cioè ha ribadito il notaio lo schiavo che tutto sommato le primarie impediscono la designazione da parte del partito del candidato. Ma mi pare che poi alla fine si determina la stessa cosa, perché le primarie sono condizionate dalla impostazione del partito, non c'è niente da fare. Quindi o è un'ipocrisia questa qua dire che le primarie sono espressioni di democrazia, perché sempre alla fine dalle primarie con questa impostazione, visto che non sono disciplinate da una legge, con questa impostazione le primarie finiscono per essere disciplinate dal partito, o che venga affettuata la designazione, o che venga in qualche modo eletto alle primarie, più o meno la stessa cosa, è una parvenza di democrazia. Questa puramente e semplicemente. Ecco, lei mi aveva posto la domanda con riferimento alla tematica degli assessori. Lei ha potuto rilevare, leggendo i giornali, leggendo anche sia quelli cartaci, sia quelli diversamente online, che io non ho mai dato una risposta. Se lei ricorda, io non ho mai dato una risposta né a Forza Italia né a nessun altro. E cioè il problema per me è questo. Io non condivido quello che è avvenuto durante l'amministrazione d'Agostino. Noi abbiamo una situazione, e per di più non condivido soprattutto il fatto che sin dall'inizio dell'amministrazione non sia stata fatta chiarezza sullo stato di dissesto. Non sia stato in consiglio comunale, così come sembrava dal punto di vista, non dico giuridico, ma quantomeno dal punto di vista morale, obbligatorio dire, cioè enunciare lo stato di dissesto, questo non è avvenuto. Allora, io sono molto in conflitto con la gestione che è avvenuta in questi cinque anni. E quindi io intanto mi sono candidato in quanto volevo prendere le distanze, volevo prendere le distanze da come è stata trattata la nostra vibra, ma non soltanto da D'Agostino, ma anche dalla stessa amministrazione San Marco. Quello che è avvenuto durante l'amministrazione San Marco, francamente, è emblematico di una gestione che non è neanche all'insegna del rispetto della legalità. Le dico semplicemente che per l'utilizzazione dei fondi vincolati è necessaria una delibera della giunta e intanto possono essere utilizzati i fondi vincolati in quanto si utilizza entro determinati limiti, ma questo il notaio lo sa perfettamente. Lo so perfettamente. Non entrerei nell'ambito delle responsabilità anche perché non c'è nessuno dell'amministrazione San Marco che in questo momento... Può rispondere no sul discorso fondi vincolati, un discorso molto importante, non dica anche una rilevanza a mio avviso. Se mi consente, io non parlo dal punto di vista penale, parlo dal punto di vista politico semplicemente e nella fattispecie non c'è una sola delibera della giunta di San Marco che prenda in considerazione o stabilisca quale destinazione debbano avere i fondi vincolati. Non mi pare di aver visto delle delibere della giunta di San Marco. Mi sembra che anche nel 2004 però le torna a dire... No, questa è una sciocchezza che alcuni stanno portando avanti. Scusi, è una sciocchezza. Non ci fossi dicendo... Ma sul piano politico noi parliamo, è sempre sul piano politico. È una sciocchezza anche sul piano politico che tra origine da alcune affermazioni. Tant'è vero che io sono stato costretto a prendere il verbale di consegna che è avvenuto con il prefetto Stasi all'epoca in cui il prefetto Stasi è intervenuto come commissario. Cioè addirittura il verbale di consegna e dal verbale di consegna risulta la somma che c'era presso la tesoreria. Quindi non vada oltre per favore su questo piano così come stanno tentando, recependo una volgarità che è stata messa in giro, recependo una volgarità di alcune responsabilità politiche dell'amministrazione San Marco in merito all'utilizzo di fondi. Ingegnere D'Agosti, io politicamente le ribatto dicendo che politicamente... Lei non mi ribatte nulla, scusi, perché siamo in un'aula di tribunale per cui si ribatte e quindi lei non ha il potere di dire chi ribatte e chi non ribatte. No, lei non ribatte nulla, dottore Cosa, io politicamente ribatto e rispondo politicamente. Dottore Cosa, questo è un dibattito politico. Nel momento in cui a lei viene passata a lei la parola, un attimo, un attimo. Ingegnere D'Agostino, può ribattere come crede. Grazie, quindi questa è una cosa diversa, ecco, la ringrazio che mi dà la facoltà. Se continuiamo così, chi ci segue da casa non riuscirà a capire nulla, quindi prego. Ingegnere D'Agostino, prego. Io mi auguro che queste trasmissioni riportino i problemi e le modalità con cui si discutono e l'interesse dei cittadini. La gente è importante che capisca quello che diciamo in studio. I problemi dei cittadini, che in questo momento sono gravissimi, altrimenti veramente non ci siamo. Vengo a quello che ha detto il dottore Roschiavo. Il dottore Roschiavo, lei ha ribaltato il discorso dei rapporti cittadini e partiti, dicendo che sono i cittadini che si chiudono rispetto ai partiti. Io l'ho detto un'altra cosa, però parlerò, non voglio aprire un dibattito. Io ho detto un'altra cosa, che c'è un'impostazione politica di alcune formazioni che non hanno voluto aprire un confronto basandosi su alcune formazioni di pregiudizio. Io non lo so, forse se c'era Vibo o non c'era, ma i nostri gruppi di cittadini, le nostre associazioni, è dal 2007 che lavorano intensamente sul campo, per le strade, controllando i lavori pubblici, ponendo problemi fondamentali, esistenziali per la popolazione, offrendo la collaborazione agli amministratori di turno. Lei deve sapere che gli amministratori di turno hanno interposto un muro di gomma. Noi abbiamo partecipato a diversi tavoli tecnici, sul problema dell'acqua, sul problema dei rifiuti, sul problema delle opere pubbliche. Abbiamo fatto delle proposte precise che sono state anche accettate dall'amministrazione e poi stracciate. Questa è la colpa del partito autoreferenziale che non accetta la collaborazione dei cittadini, senza la quale non si va da nessuna parte. È qui che, dicevo prima, ci vuole un cambio di gestione. Si rinuncia a delle risorse umane fondamentali, fondamentali. Potrei citarle in tantissimi interventi che abbiamo fatto, a partire da Corso Umberto, dove si consumava anche lì uno scempio e uno spreco enorme. Non so quanti cittadini sanno che per lo spostamento di 50 cm e per lo sveglimento di un basolato che durava perfetto al 1900 si sono spesi due milioni e se ne restituiranno un milione e sei perché non se ne è stata fatta la rendicontazione dei lavori per te. Lei dice cose sacrosante e storicamente provate, però il rischio è che lo schiavo debba rispondere delle responsabilità di un'amministrazione che è quella San Marco. No, io mi riferivo alla gestione dei partiti, perché visto che si è detto che quasi senza i partiti non si va da nessuna parte, io dico che ci possono essere buoni amministratori, anche scritti ai partiti, ma che non rinunciano alla collaborazione dei cittadini. Quella è chiusura nel palazzo, quella è autoreferenzialità, quello è un modo antidemocratico di gestire. Vorrei fare una domanda, ingegnere. Una cosa che ho notato, voi del forno delle associazioni di Cambiamo Vibbo siete molto documentati, siete molto preparati, siete professionisti che studiano le carte, le sanno studiare e sanno porre in maniera concreta i problemi sul tavolo di chi amministra. Questa è una cosa che da cronista mi sento di assolutamente di appuntare e l'ho rimarcato più volte. Una delle cose però che ho notato è che è l'amministratore che molto spesso non riflette il partito, perché l'amministratore diventa autoreferenziale, si trova quasi in soggezione ad interloquire con lei o con gente come lei. Quindi si sposta il problema, non è più il partito politico a essere sordo, ma è l'amministratore che diventa autoreferenziale e che magari indegnamente rappresenta la forza politica. Dico, cosa fa il partito in questi casi? La fragilità è evidente, la fragilità del partito, però un conto è parlare di fragilità ha un conto di responsabilità. Voglio dire, noi abbiamo avuto contatti anche col partito, inteso come referenti locali. Però una cosa vorrei dire, a proposito delle liste, no, perché si è detto che le primarie sono state una dimostrazione di ampia democrazia, io dico che in Italia in genere siamo verso una democrazia, si parla di democratura addirittura, che difetta molto, no, che è parodata la democrazia, ma è una democrazia formale. Quello che avviene a livello centrale si riflette anche a livello locale, ecco perché voglio dire al dottor Lo Schiavo che bisogna intraprendere un'altra strada, quella delle liste, badate bene, è una di quelle se vogliamo elevare il livello culturale e sociale. Tonino, prima di tornare allo schiavo. Questo è importantissimo perché abbiamo fatto una proposta e vorremmo una risposta. E capire anche se la risposta è negativa, quali sono le motivazioni. Perché guardate che io abito nel quartiere Carmene, a distanza di 20 metri, in ogni famiglia c'è un candidato. Se questo è un modo per selezionare la futura classe dirigente, me lo devono dire i candidati. Tonino, prima di tornare allo schiavo. Sì, il problema delle due liste al massimo in appoggio a ciascun candidato. Che voi avete elaborato e poi posto sul tavolo come la prima seria proposta elettorale di questa campagna che ancora chiaramente deve entrare nel vivo. Non avete però ottenuto alcuna risposta. Nessuno ha al momento ribattuto, evidenziando forse anche i limiti di questa proposta perché magari ha i suoi pregi, ma non è forse un po' scarsa la rappresentatività di un centro-sinistra. Io parlo di liste civiche, poi ci sono le liste di partito, però partiamo dal fatto che all'ultima elezione comunale c'era un candidato ogni 28 cittadini. Questo è un eccesso. È una degenerazione o no? Ha privati enormi, ha pretensioni enormi, avvelena il clima. Questa può essere la sede migliore però per chiarire. Sugli spunti che l'ingegnere dava alla discussione, io non vorrei che passasse un messaggio a mio avviso contraddittorio. È come se nella società vibonese i partiti rappresentassero tutto il marcio possibile e immaginabile, mentre la società civile, il civismo, le associazioni da sempre in prima linea rappresentano questa ricchezza culturale e vitale della città. Sono una maggioranza. Non è così, perché questa è una semplificazione e come semplificazione non può essere accettata. Ovviamente i partiti sono frutto di una società civile debole, no? Perché i partiti sono specchio della società. Io ritengo sbagliato un approccio, un metodo politico, e cioè quello della chiusura. Io ritengo che le istanze che legittimamente portano avanti da anni i movimenti rappresentati dall'ingegnere D'Agostino potevano trovare una concreta ed efficace azione amministrativa se realmente aprivano a un contributo a una delle due grandi coalizioni. Poteva essere la coalizione rappresentata dal dottore Costa, la coalizione rappresentata da me, perché in quel momento alcune battaglie legittime che loro hanno fatti in prima linea potevano avere un riscontro concreto nell'approssimazione amministrativa. È il metodo che io contesto, cioè il metodo di chiusura a priori, perché non è vero che si è aperto un confronto. Perché io qui chiudo, non voglio inseguire questi argomenti. Non ci si può ricordare delle associazioni soprattutto quando ci sono associazioni. Bravo, non nei momenti elettorali. A parte il fatto che le associazioni poi si trasformano nella città di Vibbo, le associazioni in un certo momento si trasformano anche in movimenti politici, ma questo è un altro tipo di discorso. Non è il nostro. Ci sono stati dei casi e dei segnali, almeno per quanto mi riguarda. Personalmente io ho chiesto la possibilità di un confronto e un dialogo. Oggettivamente ho trovato una risposta negativa. Diventa strumentale nel momento delle elezioni. Quindi se non si vuole neanche ascoltare la proposta dell'altro competitore, vuol dire che c'è il preconcetto. Detto questo, e non ritornerò più, vado nel merito su un discorso molto serio, che è la proliferazione delle liste. Perché è un ragionamento particolarmente delicato. che noi dovremmo affrontare. Perché se noi ci poniamo l'obiettivo di innalzare la qualità della politica, e noi questo l'abbiamo detto sin dall'inizio della nostra campagna elettorale per le primarie, noi dobbiamo porci il problema dei criteri con cui vengono composte le liste, della proliferazione delle liste, e su questo sono d'accordo. Noi dobbiamo ridurre il numero dei candidati, e si ridurrà questa volta il numero dei candidati. dobbiamo ragionare in termini di rappresentatività anche di chi va a entrare nelle liste, e non solo in un semplice calcolo elettorale o numerico. E questo noi lo faremo, lo faremo. Il centro-sinistra lo farà, questo tipo di ragionamento. Due liste oggettivamente è impossibile, perché? Perché non possiamo mettere tutti sullo stesso piano, perché noi abbiamo delle forze che hanno rappresentatività diverse. La coalizione che rappresenta il dottore Costa, la coalizione che rappresenta il centro-sinistra, hanno una rappresentatività, e devono avere una rappresentatività, e lo hanno diverso rispetto ai vostri movimenti. E' ovvio che volere prefissare dei paletti in cui tutti corriamo con lo stesso numero di liste è una proposta irrealistica. Sono d'accordo sullo stimolo che le mi dà una sfida, che noi cogliamo in pieno, e cioè quello di ragionare su come comporre le liste, su come ridurre il numero dei candidati, su come trovare... Però ovviamente questo non può... Oggi leggevo giustamente un editoriale in cui è come se una squadra non riesce ad arrivare a 11 giocatori, perché ne ha 8 e dice giochiamo tutti in 8. Ha letto l'altro articolo pure, l'altro articolo che c'era... Quindi l'ho letto, l'ho letto, l'ho letto. Siccome non abbiamo avuto modo di leggere tutti gli articoli di oggi... No, però il concetto è chiaro, il concetto che esprime è chiaro. Accetto la sfida sui contenuti e naturalmente la porto... Aspettiamo, aspettiamo. Tonino. Sì, questa volta una curiosità da Antonio Loschiavo. Il centro-sinistra, possiamo dire che dopo le primarie si è ricomposto? Oddio, negata... Dire che il centro-sinistra si è ricomposto... Dire che il centro-sinistra si è ricomposto è dire una frase forte, perché da sempre è famosa la nostra litigiosità. E quindi c'è una questione seria però, c'è una vostra capacità di riaggregarvi. C'è una questione seria. Io ritengo che la coalizione che mettiamo in campo è omogenea e forte. E ritengo che anche questi tentativi di strumentalizzare alcune vicende, questi tentativi di indebolire anche la mia candidatura, perché diciamoci le cose come stanno. La mia candidatura ha scompaginato un quadro politico. È una candidatura che in certi aspetti è anche dirompente, perché ovvio che un giovane di 37 anni che non fa politica di professione, fa tutt'altro nella vita, ma decide di mettersi in campo per la propria città, partendo e non avendo alcun interesse né economico né personale da dovere tutelare, ma anzi, ma anzi, in questo contesto, nel contesto del centro-sinistra, complessivamente la società vibonese, può rompere determinati equilibri. Quindi io non mi meraviglio delle resistenze, che ancora ci saranno, non vi è dubbio. Però le dico che noi, è proprio la nostra forza, quello che il dottore Costa pensa sia un'impostazione dei partiti, di una falsa democrazia, no, in realtà quei 2.500 persone in carne ed ossa, non 25, 2.500 persone che si sono recate e hanno espresso un consenso su un progetto di cambiamento, sia nel segnale forse più forte sul fatto che il centro-sinistra sarà unito e non ha alternative rispetto a questo blocco. Ecco, il dottore Costa, invece, lei è protagonista di un'inversione di tendenze, di un'inversione quasi del... invertiamo l'ordine degli andendi e il risultato paradossalmente cambia, perché all'epoca, la sua prima esperienza amministrativa, si interruppe a causa della volontà di un gruppo politico, di una cordata politica, definiamola come vogliava, l'asse... Un informe amalgama raffazzonata e controfusa. Adesso cosa succede? Che lei ricomincia, si candida da solo contro il resto del mondo, possiamo dire, alla testa di una forza civica e paradossalmente ci si ritrova con quell'asse politico ai margini. Mi pare che solo Fratelli d'Italia, quindi la forza del senatore Bevilacqua, sia rimasta fuori a guardare. Ovviamente l'onorevole Michele Ranieri, diciamo, un po' defilato allo scenario politico. Diciamo che lei... Cioè, si riflette in questa ricostruzione? No, lei sta tentando, ancora una volta... Sì, ci provo perché è il mio mestiere, ci provo. Di attribuirmi, come dire, una visione della impostazione completamente diversa da quella reale. Allora, avevo pensato, venendo qua, di parlare un poco dei problemi reali della città, ma mi accorgo che ancora una volta si sorvola su quelle che sono le effettive condizioni della città. Non mi interessa niente il dibattito politico, anche perché gliel'avevo detto che non avrei partecipato... No, dottore Costa... Sì, aspetta, 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 mi faccia dire... Cioè, noi abbiamo parlato di tutto, della storia, poi, che la città è sporca, che il bimbo non esiste... No, no, non si tratta di città sporca, bisogna... Che non c'è l'acqua... Si tratta dell'esigenza di creare... Se non possiamo fare dei programmi, non possiamo parlare di questo, possiamo parlare di questo. Si tratta dell'esigenza di creare una nuova fase nella storia di questa città. Una fase in cui, insomma, il partito politico non domini più, non domini più, né condizioni le scelte. Tant'è vero che quando io ho cercato di raggruppare, ed è importante questo, di raggruppare delle persone, dopo aver fatto delle scelte ponderate, la scelta dei candidati è molto importante. Eh sì. La scelta dei candidati è molto importante. Non tanto il numero delle liste, ma la scelta dei candidati... La qualità, non la quantità. La qualità, la qualità, la qualità è decisiva, è decisiva la qualità. Si tratta di vedere e di accertare se il comune denominatore delle persone con le quali ha avuto contatto fosse solo ed esclusivamente l'amore per la città. E si trattava di vedere se queste persone fossero interessate alla candidatura per tanti motivi per cui gli altri o tanti altri si sono candidati, tra cui quello di vivere di politica. No, si tratta di persone che grazie al cielo possono vivere di altro, non di politica soltanto. E cercano di impegnarsi perché hanno questo comune denominatore che è rappresentato dall'amore verso la città e dalla voglia di cambiare, di cambiare le condizioni nelle quali si trova la città. Le confesso che io, ma questo credo che l'ingegnere lo sappia, qualche volta ho partecipato anche alle manifestazioni e alle manifestazioni che sono state indette dal Movimento. E le confesso anche che quando io sono stato sindaco ho cercato anche di creare un raccordo, un rapporto con questa associazione, se ricorda l'ingegnere. Sì, sì, abbiamo fatto un protocollo anche con l'amministrazione dell'Ostro. Peccato che poi, purtroppo, per le vicende che sono seguite... Non è stata colpa mia, però in ogni caso feci di tutto perché attraverso l'asse città ci fosse quella distribuzione di fondi che in qualche modo privilegiavano la storia della città stessa e quindi il centro storico, tant'è vero che poi molti di questi fondi sono stati utilizzati in momenti successivi, anche se non nel migliore dei modi, perché io per, voglio dire solo queste due cose, per il municipio, l'ampliamento del municipio, non prevedevo proprio che fosse fatta quella nuova, come dire, quel palazzo che è stato creato a Carlo. Quello Blufass. Quello Blufass. Perché io mi ero attenuto esclusivamente al progetto Razza, che prevedeva la sopraelevazione. Nel progetto Razza c'era un piano in più del nostro municipio. E d'altro canto, se io ho portato i fondi anche per la ristrutturazione, per il restauro di molte delle nostre strade, non pensavo proprio che buona parte di questi fondi fossero utilizzati impropriamente per il restauro di Corso Umberto quando per quel restauro sarebbe stato sufficiente 300-400 mila euro, non di più. Sono stati impegnati 2.000 euro, proprio facendo riferimento a qualche cosa che non corrispondeva a verità. Perché praticamente si faceva riferimento al fatto che i tubi, che le fogne, eccetera, passassero al centro di Corso Umberto, laddove invece era tutto programmato e passava ai bordi del Corso Umberto. Tonino. Sì, visto che ci arriviamo alla conclusione, dottor Costa, lei dunque in discontinuità con questa amministrazione, è un progetto politico che però parte dal civismo, dalla necessità di marginalizzare il ruolo dei partiti, ma a suo giudizio di questi partiti se ne potrebbe fare realmente a meno oggi qui su Vipo? Io credo che i cittadini ne hanno fatto in buona parte a meno, nel senso che in Calabria alle regionali credo che non abbiano votato un grosso numero di cittadini, forse ha superato il 60%, mentre invece a Vipo Valencia è stata leggermente inferiore la percentuale di cittadini che non ha votato. Quindi tutto sommato io penso che se i partiti riconquisteranno il loro ruolo, quello di interessarsi realmente per quanto riguarda le locali, le amministrative, le elezioni locali, di interessarsi realmente della polis e se in campo nazionale ci sarà un'inversione di tendenza, allora forse dei partiti sicuramente non si può fare a meno, però in questa fase è necessario prendere come dire un distacco, un distacco per accentuare la capacità dei cittadini di saper gestire o di voler gestire da soli la propria città. Ingegnere D'Agostino. Sì, devo ribattere forza al dottor Loschiavo, non è che voglio polemizzare con lui. Il dottor Loschiavo, guardi, so che sono apprezzata, che ha avuto un percorso anche coerente di militanza all'interno del partito, forse se posso fare un appunto è stato troppo all'interno del partito, quando dice che non c'è l'apertura da parte dell'associazione, io voglio dire che in tutte le manifestazioni che abbiamo fatto noi non ce li siamo trovati, io non ho mai visto il dottor Loschiavo, ma non è un appunto, può darsi che fosse impegnato in altre cose per carità, però voglio dire la politica non è solo quella dei partiti, la politica è quella dei cittadini, è quella di entrare nel vivo, nella carne, radicarsi nei problemi. Guardi, noi abbiamo fatto una serie di queste pubblicazioni sull'acquisi rifiuta, l'abbiamo distribuita ai cittadini, qui c'è tutta l'analisi del problema, di come è nato e di come è proseguito, in più noi attualmente, e lo sapete perché voi girate pure nelle strade, ogni sabato siamo in mezzo ai cittadini con la distribuzione di alcune brochure che introducono un argomento, l'abbiamo fatto, ecco se vuole inquadrarlo, questo è sull'acqua, ne abbiamo fatto uno sui rifiuti, ne abbiamo fatto uno sul porto, ne abbiamo fatto uno sul PSC, ne abbiamo fatto uno sul dissesto, ecco venendo al dissesto, ma caro dottor Loschiavo, ma vogliamo dire di chi è stata la responsabilità, che anche l'amministrazione San Marco ha grossissima responsabilità sulla sottrazione dei fondi vincolati, che ha partecipato poi a quello che è avvenuto dopo, a questa catastrofe, perché è una catastrofe, certo, l'amministrazione D'Agostino ha fatto la sua parte, ma questo non assolve né gli uni né gli altri, di questo dobbiamo parlare, non dell'autoreferenzialità dei partiti che hanno perso qualsiasi riferimento veramente sul territorio, siamo noi che abbiamo fatto la politica vera in questi anni, in sette anni, subendo anche quelle cose che ha detto prima il nostro conduttore e non avendo avuto nessuna solidarietà da parte dell'amministrazione di allora e men che meno abbiamo avuto la collaborazione dell'ultima che ha responsabilità ancora più grave, potremmo parlare di un PSC assolutamente sproporzionato, incongruente, con dati che non prendono in considerazione nemmeno gli artisti del 2011. Però c'è una stranezza sul PSC, se mi permette, che è la stessa considerazione che in Consiglio Comunale fa il capogruppo di Forza Italia, ricompare poi nell'analisi del Partito Democratico, è molto strano questo, cioè io ho analizzato quello che ha detto il PD, ma sa qual è la conseguenza? Tutti d'accordo contro il PSC variato dall'amministrazione di Agostino, ma è strano che destra e sinistra possano avere la stessa idea di città, questo è un po' strano, è un po' strano veramente, però voglio dire il PD ha votato contro, lo sa, no? Perché, ecco, ma soprattutto ha tradito quello che era lo spirito della legge urbanistica 1902, e qui mi correga il dottor Lo Schiavo, visto che è esperto giurista. Ma anche il capogruppo del Forza Italia è stato convinto. Sì, sì, la legge urbanistica diceva che assolutamente la nuova filosofia era quella della partecipazione attiva dei cittadini, lo sa quando sono stati fatti i forum, l'ultimo forum, nel 2007, lo sa che nel PSC non viene citata nemmeno la chiusura del cementificio. Ingegnere, mi perdoni se l'interrompo, ha detto un sacco di cose interessantissime e diventano ancora più interessanti nel momento in cui diamo la possibilità allo schiavo di rispondere. No, io non risbattro, no, no, non risbattro perché... No, la chiusura non l'accetto, che noi siamo chiusi non l'accetto, però perché... Siamo due contro uno, no, scherzo, è una battuta. E io dico questo, noi stiamo cercando di affrontare una discussione sulle imminenti elezioni amministrative e noi dobbiamo partire dalla realtà. Dalla consapevolezza. Dalla realtà qual è? Questa città è stata governata per cinque anni dal centro-destra. Bisogna dire le cose in maniera chiara. Non ha governato San Marco. L'ultima amministrazione è un'amministrazione con un colore politico di centro-destra, un'amministrazione guidata da partiti politici, da persone. Oggi il centro-sinistra sceglie un'alternativa, lancia in campo una proposta di cambiamento, innovativa e non solo da un punto di vista anagrafico, ma di ricambiamento di una classe dirigente che dovrà essere, ed è questa la mia garanzia, dovrà essere rinnovata nei contenuti e nelle persone. Lancia un progetto nuovo di una città diversa, moderna, che guarda al futuro, inclusiva, solidale. Lancia un progetto di alternativa al governo che c'è stato di centro-destra. Noi partiamo da questo dato. Noi mettiamo in campo questo percorso. Noi abbiamo parlato tantissimo dei programmi durante le primarie e ne sei testimone. Abbiamo parlato di EPSC, di società inclusiva, di politiche sociali, di rifiuti, di acqua. Abbiamo parlato tantissimo. Abbiamo un programma estremamente completo e attento su tutti i te. Però noi dobbiamo dare il dato politico. E cioè che di fronte alla nostra alternativa, di fronte al governo di cinque anni di centro-destra, noi troviamo che le stesse forze politiche che hanno governato questa città, gli stessi uomini, perché non basta dire assessori, perché poi un'amministrazione guidata anche dai consiglieri comunali che votano in carne ed ossa le delibere, queste forze politiche, questi consiglieri comunali, dove sono collocati? Sono nel centro-sinistra? Sono nella nostra coalizione? Chi rappresenta oggi la discontinuità? Io ci tengo a dire, noi oggi siamo l'unica discontinuità politica possibile per questa città, perché mettiamo in campo una classe dirigente nuova e rinnovata, che non ha colpi amministrative, non ha responsabilità, ed è questa la mia forza. La mia forza è la mia autonomia politica. Per qualcuno può essere un'inesperienza, ma io dico che è la mia forza. Non avere responsabilità, ingegnere D'Agostino, io ho parlato per 25 giorni di programmi concreti e noi stiamo nella città, non nella torre d'Avorio. E venga nelle strade, venga nelle strade. Quindi, ingegnere, noi partiamo da una forza che è popolare, che si sporca le mani e sta con i cittadini. Noi stiamo nei quartieri, nella città, ma comunque non è questo il discorso. Noi portiamo avanti un progetto di cambiamento e di discontinuità negli uomini, nelle idee e nei programmi. I cittadini sono attenti e non devo aggiungere altro perché oggi è inutile anche fare analisi politiche o ragionare su questioni che non interessano. Sapranno capire chi oggi si pone al governo della città proponendo un programma nuovo. Noi lo svilupperemo, nei prossimi giorni faremo una grande campagna di ascolto in questa città. Metteremo in campo tutte le nostre forze perché noi la battaglia ce la giochiamo tra la gente e con la gente. Ultimi tre minuti di trasmissione, Torino. Ci tolgo un dubbio, Natalio Loschiavo, ma secondo lei, dal punto di vista dell'oppositore, Forza Italia è stato un partito di maggioranza o un partito di opposizione in Consiglio Comunale? Guardi, Forza Italia molto probabilmente ci sono più Forza Italia, come nei partiti ci sono più partiti politici, ci sono più linee politiche. Indubbiamente Forza Italia è stato un partito che ha sostenuto questa amministrazione. Questa amministrazione è stata sostenuta dal nuovo centrodestra e è stata sostenuta in particolar modo da quei consiglieri comunali che di volta in volta hanno votato con la maggioranza politica. E quindi io non voglio dire, io rappresento il centro-sinistra, chi era l'opposizione. Oggi quasi gente di confondere i piani a dire quasi quasi che noi siamo la continuità e invece c'è la discontinuità in altre forze. attenzione, questo messaggio non paga, parliamo veramente di contenuti politici. Io dico parliamo di contenuti politici. Il centro-sinistra rappresenta la discontinuità, il forum delle associazioni... Ovvio perché è stato all'opposizione cinque anni e perché candida una persona di 37 anni che non ha responsabilità politica e che vuole portare una generazione di quarantenni nella nuova amministrazione. Sul fatto che il centro-sinistra rappresenta la discontinuità rispetto alla missione di Agostino, io penso che ci sia un problema di colori e di simboli. Sul fatto che il forum delle associazioni l'abbia fatto nel corso dei cinque anni, l'abbiamo... No, una cosa la posso... perché il dottor Oscar ha fatto una battuta contro... Però anche il dottore Costa sostiene di rappresentare la discontinuità. E qui, 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 qui. Il punto è questo, il punto è questo. Il dottor Costa ha preso tempo, ha preso tempo. Le premesse dicono, cioè i giornali dicono, che ci sono queste forze che vanno da Forza Italia all'NCD all'Udc che l'appoggeranno. Se l'appoggeranno con quei simboli, con quelle persone, con i consiglieri, mi dispiace, ma non si configurerà come un'aggregazione civica. Io, purtroppo, l'appunto che ho fatto al dottor Oscar, è chiaro che lo giro anche al dottor Costa, ma non perché nella volontà del dottor Costa non c'è quello di aggregarle forze. Il dottore Costa ha puntualizzato, io non ho risposto a nessuno. Scusate, queste cose... Cioè, io non ho risposto a nessuno. Ma no, sono percorsi. Noi siamo a un punto di arrivo e di passaggio perché abbiamo lavorato sette anni sul campo. Questo voglio dire. Qui sono gli altri a parlare, per la verità, perché solo da Forza Italia sono arrivate le dichiarazioni, secondo cui è stato giusto l'accordo con il dottore Costa, secondo cui ci sarà il simbolo di Forza Italia nelle liste del dottore Costa. Però non è solo questione di simboli. Il consigliere regionale Salerno dice che gli assessori della giunta di Agostino che fanno riferimento a Forza Italia, per la verità, soprattutto a lui, dovranno essere inseriti nella lista di partito che sosterrà il dottore Costa. Sono tutte affermazioni di Forza Italia, rispetto alle quali, per la verità, non sono arrivate reazioni né a conferma né a smentita da parte del direttore interessato. Ma se così dovesse essere, se si consolidasse questo disegno, è chiaro che veramente ricaveremo. E mi dispiace per il dottor Costa perché si ritroverebbe di nuovo prigioniero di certe situazioni che hanno portato a quell'epirogo di allora. 13 anni dopo mi sembra che i rapporti di Forza tra Costa e la politica siano radicalmente cambiati. Sì, però voglio dire, ci potrebbe essere un recupero da parte di quelle Forze che chiaramente di fronte a una candidatura del dottor Lo Schiavo contrappongono una cambiatura di Forza Italia. Volevo semplicemente dire al dottore Lo Schiavo che probabilmente ha fatto un'affermazione un po' così, un po' avventata perché non conosce le mie liste. Non sa assolutamente chi fa parte delle mie liste e soprattutto non sa se delle mie liste fanno parte gli stessi componenti che costituiscono questa amministrazione o altre amministrazioni. Ci stanno ragazzi che non si sono mai candidati nelle mie liste. Ma ragazzi, anche dello stesso PD che si candidano all'interno delle mie liste, quindi io non ho voluto dare una colorazione politica alle liste proprio perché il denominatore comune che è dei componenti delle mie liste è solo l'amore per la città. che poi enfaticamente si parli di rinnovamento connesso al dato anagrafico. Questo mi sembra del tutto assurdo. Il rinnovamento passa attraverso le idee ed io di idee non ne ho sentite molte stasera. Ecco, noi di idee si parlerà e si continuerà a parlare perché questo era un incontro preliminare. Dovamo delineare uno scenario che è uno scenario in parte storico che è quello che abbiamo ricostruito nella prima parte, in parte conoscitivo rispetto all'attualità. Su molte cose ci si è confrontati, ci si è anche ritrovati. C'è sulla necessità per esempio di semplificare lo scenario, sulla necessità di cambiare qualcosa perché qualcosa va cambiato. Ed è stato un confronto a mio avviso, forse atipico però vero, durante il quale sono uscite fuori delle cose positive da parte di tutte e tre i candidati. Ci saranno altre occasioni di confronto, quando la campagna elettorale ovviamente sarà ormai nel vivo, quando si conosceranno le liste, quando ognuno tra i candidati intenderà illustrare dettagliatamente il proprio programma. Noi siamo qui e siamo qui per questo. Io vi ringrazio. Grazie a voi. Grazie al notario Antonio Moschiavo, candidato del centrosinistra alle elezioni amministrative vibonesi che si svolgeranno a maggio, grazie al dottor Elio Costa, che è il candidato di una coalizione civica che probabilmente sarà appoggiato anche da forze politiche di centrodestra. si può dire, dottor Elio Costa, non lo so, no. Non lo so, no. Destra no, certamente. Destra no, certamente. Prendiamo l'atto. Insomma, una coalizione... Destra no vuol dire no, fratelli d'Italia. Questo è sicuro. No, l'Aistra è ampia. E poi... C'è una coalizione, abbiamo recepito insomma. Mi pare che Renzi abbia fatto una coalizione. Ma non farebbe istituzione. Larga in tese. 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 E poi, grazie all'ingegnere Antonio D'Agostino, che è espressione della società civile, di un movimento, Cambiamo Vibo, che è espressione, il forum dell'associazione, che si è spesa molto in questi anni, in bocca al lupo. In bocca al lupo per una serie di motivi. Il principale è che questa città ha bisogno. Ha bisogno del vostro entusiasmo. Ha bisogno delle vostre idee. E grazie al cielo, ci sembrate tutte e tre all'altezza, abbastanza preparati per il compito che vi aspetta. Grazie al mio amico e collega Tonino Fortuna. E grazie a tutti i tecnici straordinari che lavorano per questo emittente e che hanno consentito che oggi andasse nuovamente in onda questa diretta. Ci ritroveremo la prossima settimana, durante la quale contiamo di portare qui nei nostri studi i candidati del centro-sinistra alle elezioni amministrative, alle elezioni primarie, in vista delle amministrative di primavera, che si svolgeranno alla mezza terme. Grazie per l'attenzione, linea alla regia e buon proseguimento di serata con la programmazione della C. Grazie a tutti i nostri spettatori a tutti i nostri spettatori